Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio portarvi l'analisi di queste quattro carte che potete già intravedere dallo schermo. Alcune di queste me le ero lasciate arretrate dai giorni scorsi, un po' perché poi andrete a scoprire il motivo, un po' perché il prezzo a alcune delle carte era alto. E volevo poi andare ad analizzare il buon Eswine, il buon Gervigno, che sono freschi freschi usciti con un pick disponibili in game. Ma andiamo con ordine, dunque, direi di partire dal buon Biabiani, conoscenza del calcio italiano, come tutti saprete. Su foot non è che abbia mai avuto queste carte brillanti, se non in passato magari qualche carta che era buggata, mi pare, ai tempi dell'Inter, circolava qualche Biabiani, forse anche ai tempi del Parma. E torna in maniera prepotente con questa versione flashback, addirittura del Trapani. Andiamo ad analizzare però subito una criticità importante perché di fatti si tratta di un giocatore che ha 3 di skill e 3 di weak foot. che, sebbene questo sia nato per correre, insomma, messo lì a piottare sulla fascia, 3 di skill, manca a fare un tacco tacco e 3 di piede debole, insomma, un po' carente in fase di impostazione, magari col piede opposto e anche conclusiva, già. È un dato un po' così e così. 1,77 per 73 di peso, work rate, diciamo, discreto. Ma passiamo ad analizzare le statistiche. Ovviamente la velocità è quella in cui il Buon Biabiani eccelle. Per quanto riguarda il tiro, 96 di positioning, 88 finishing, 93 shot power. Si tratta di attributi importanti che però, secondo me, vengono penalizzati in maniera pesante dal 3 piede debole. Per quanto riguarda il dribbling, 99 di agilità, balance 96 e reaction 80 fanno del Buon Biabiani sicuramente una carta bella agile. Ma un'altra criticità pazzesca è sicuramente il 78 di freddezza, come potete vedere. E vabbè, poi statistiche di passaggio, 84 di passaggio, 66 di lungo, insomma, un po' così e così. Stamina 85, Strength 75, Aggression 70. Il giudizio che io vi do su questa carta è che non va sbloccata, perché il Super Sub, a mio modesto modo di vedere, non lo può fare. Perché per la metà vi prendete lo Zano Footbird che per giunta è scambiabile, quindi Biabiani per me è un grossissimo no. Passiamo ad un'altra carta che mi avete tanto richiesto, ovvero il Buon Rodrigo. E potete vedere subito uno dei motivi per i quali ancora non ve l'avevo portato, perché sta molto alto, 300k praticamente su entrambe le console. Questo perché richiede delle carte che sono presenti all'interno della sfida delle Icon Mid, quindi probabilmente il prezzo di questa carta oscillerà più o meno sempre su questi parametri. Per quanto riguarda skill e weak foot è messo alla grande, 4 skill e 5 weak foot, 1,82 per 77 kg, work rate ovviamente buono per una punta, statistiche di velocità assolutamente notevoli. Per quanto riguarda statistiche di tiro abbiamo 90 di posizionamento, 87 di tiro, 90 di potenza tiro, tutti i parametri che sono ottimi. Il problema di questo Rodrigo sta nella balance, perché questo 81 di balance vicino ad un 89 di agilità e un 90 di reaction è sinonimo di... Questo secondo me non è che si giri proprio con una facilità disarmante, sapete che a me piacciono i giocatori agili, no? E poi per quanto riguarda statistiche di passaggio, un ottimo corto, un pessimo lungo, statistiche di fisico, tranne l'aggression, tutte quante è abbastanza on point. E il giudizio che io vi do su questa carta è sicuramente di non andarvelo a sbloccare a queste cifre. Se avete nel vostro club determinate carte e andare a ridurre questo prezzo, secondo me per una cifra che si aggira sui 150k, ok. Altrimenti raga io vi consiglio un sempre verde e ben gli header piuttosto che sto Rodrigo, perché... Come direbbe il mio amico Olli, non è né carne né pesce, cioè è uno che vuole essere un top, ma... Secondo me è di top, c'è solamente alcune stats che poi bisogna andare a verificare se effettivamente rendono per quello che sono. Passiamo invece ai due pick che sono usciti stasera, ossio a Eswine è il primo dei due. E già notiamo che si tratta di un giocatore con 3,3 per 1,82, 85 kg, con un work rate abbastanza ambiguo. Quindi già ci sono delle criticità che sono insomma importanti, perché 1,82 per 1,85 questo praticamente neanche con la gru si gira su se stesso. E 3,3 insomma, stesso discorso per Biabiani. Velocità on point, statistiche di tiro con 80 di finishing, 99 shot power, vabbè incredibile. Anche qui, 85 di agilità, unito però ad un 81 di balance e al 94 di equilibrio, più il work rate, più il body type, eccetera eccetera. Questo qui non è che insomma sia proprio super, super, insomma, responsivo quando cercate di farlo girare. Oltre che abbiamo poi quella statistica di tiro che viene penalizzata tanto dall'80 di finishing. Per quanto riguarda il passaggio, il corto è buono, è lungo, così e così. Per quanto riguarda statistiche di fisico, super boostate. Sicuramente tra i due è la carta meno interessante. Perché, appunto, vi dico tra i due, perché è in un pick assieme al buon Gervigno. Che è pur sempre 3,3, ma si tratta di un giocatore di 1,79 per 65 kg. Quindi un body type per praticamente un giocatore che va a fare lo stesso ruolo di quelle swine è sicuramente migliore. Veloce, più veloce. Statistiche di tiro, anche se penalizzate dal 3 weak foot, sono migliori. Perché ha 89 di finishing, anche se ha meno potenza tiro. Però almeno dovrebbe finalizzare nelle zone di campo che più gli si addicono. Agilità 99, balance 99, reaction 89. Questo, quantomeno, a girarsi si gira. E in più risulterà in game abbastanza scattante, bello fast. Poi, per quanto riguarda statistiche di fisico, vabbè, 90 di stamina, strength, aggression, ovviamente non sono punti forti del buon Gervigno. Lo sappiamo tutti. Quindi, se proprio vi devo consigliare chi andrà a sbloccare tra i due, vi dico sicuramente Gervigno. Vista anche la carenza di esterni sinistri in serie A, tolto il Douglas Costa footbird che è uscito ora. Ma questo qui, secondo me, può andare anche a fare il super sub. Se non gli chiedete chissà quali compiti, se lo piottate lì sulla fascia a correre, potrebbe anche, insomma, dire la sua. Al momento non so ancora quanto vanno a costare queste carte, perché footbin mi impedisce di saperlo. Ma, a prezzi contenuto, questo potrebbe rivelarsi anche una mezza in game. Quindi, tra i due, sicuramente Gervigno. E nulla, che dirvi. Per l'analisi di questi quattro giocatori, raga, è tutto. Sapete che mi trovate ogni giorno alle 12 alle 16 live su Twitch. E a me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento a un prossimo video. Peace.